Siamo dietro da Rino, questo dovrebbe essere il pulmino della Virtus, queste le macchine di Giordano e non so cosa c'è sotto lì, non si sa, abbiamo misurato 50 centimetri sulla strada, in pratica qua, mentre da Piero e oltre tocchiamo i 60 e passa e quindi non si cammina più. Abbiamo rinunciato, abbiamo una macchina almeno in teoria sotto l'albero, l'albero e questo è Castelvecchio alle 9 di sera dell'11 febbraio e non accenna a diminuire. E' questa la via principale di Castelvecchio, sulla strada 40-50 centimetri, auto sotterrate, vediamo se riusciamo a sfondare su via Carso, da questo punto non pensiamo proprio, visto che qua stiamo andando verso il mezzo metro e via Carso ci sembra, e Piazzetta Carso ci sembra, e qui siamo anche a 70-80, Piazzetta Carso ci sembra possibile da raggiungere. cerchiamo di stare sulle urne di chi è già passato, penso che è una nevicata che rimarrà negli annali della storia di Castelvecchio, siamo a livelli record che siamo in mezzo alla piazza. Vediamo il pulmino di ieri sera in mezzo alla piazza, vediamo il misurometro, siamo intorno ai 40 centimetri.